Eccoci tornati in diretta amici di Le Fonti TV ancora con il nostro Instant Focus per aprire un altro approfondimento che come leggete in sovrimpressione riguarda in generale il mondo assicurativo ma poi entreremo nel dettaglio con una realtà che si racconterà, racconterà una esperienza. L'esperienza che abbraccia un po' diversi periodi, addirittura dovremmo tornare indietro un po' al periodo pandemico quando ovviamente il modo di fare business in generale è cambiato per tutti, lo sappiamo, è inutile che io stia a ripetere perché tutti ci siamo passati, poi il passaggio a una nuova normalità però aggravata anche da una situazione finanziaria sicuramente difficile, complicata, l'inflazione, il conflitto Russia e Ucraina, il diverso modus operandi delle banche centrali che ovviamente per il controllo dell'inflazione, rialzano i tassi di interesse e questo ovviamente presuppone costi aggiuntivi per le imprese, per l'accesso al credito anche per il consumatore finale, insomma uno scenario sicuramente complicato da altre questioni però insomma noi lo faremo in modo propositivo perché dobbiamo capire come guardare al futuro. Allora io do il benvenuto in studio a Pier Francesco Basilico, direttore generale a Fiesca Italia che ritrovo con molto piacere, buongiorno, ben trovato e lo dico anche perché ho fatto anche una premessa un po' più corposa ricordando anche il periodo della pandemia perché si è appena tenuta la convention, adesso ne parliamo di a Fiesca, in presenza, le ultime due si erano tenute proprio qui nei nostri studi alle fonti tv, ero stata io insomma con voi ad accompagnarvi nel vostro diciamo racconto e però in digitale proprio perché si inserivano in un contesto in cui tutti abbiamo dovuto rimodulare un po' il nostro operato. Però adesso siamo tornati in presenza, allora facciamo un po' il punto se vuole di questo primo cambiamento, dai definiamolo così. Un cambiamento sì, sicuramente un cambiamento molto forte, atteso da tutti veramente, un cambiamento se parliamo della convention avvenuto in ottobre, a fine ottobre quasi, che è stato preceduto da alcuni eventi sul territorio già in presenza, ma un evento che comunque marca un cambiamento e un ritorno tra virgolette alla normalità che dopo due anni era veramente atteso. Come abbiamo detto, due convention totalmente in digitale, quindi due anni dove la distanza è stata veramente forte, tanta, con delle contropartite, dei vantaggi, perché l'accessibilità di una convention svolta via web e diffusa via web permette comunque un'accessibilità a un numero maggiore di persone ovviamente, che non la concentrazione in una singola location, però si sentiva il bisogno di ritornare a gestire la relazione con le strette di mano, fisicamente. E questo devo dire che ci auspichiamo che sia un qualche cosa che ormai diventi di nuovo la normalità e la continuità di questo tipo di approccio. E allora la convention è tornata in presenza all'hotel Gran Visconti Palace di Milano, noi c'eravamo, l'abbiamo seguita con voi, come è andata? Qual è il bilancio che si può fare? Allora, il bilancio positivo, assolutamente, sia come numero di persone che sono intervenute, sia per la modalità con cui l'abbiamo svolta, nel senso che le nostre convention hanno un duplice obiettivo, formare e informare. Allora, l'aspetto formativo quest'anno è stato incentrato soprattutto sul dare agli intermediari delle motivazioni sulla modalità di approccio con la loro clientela, quindi delle modalità per guadagnare in autorevolezza. E per quanto riguarda la parte informativa, ha abbracciato una serie di presentazioni di prodotti di novità che andranno in distribuzione da qui alla fine dell'anno, inizio dell'anno prossimo. La parte di presentazione dei prodotti è una diretta conseguenza dei due anni di cambiamento delle modalità distributive, di cambiamento delle esigenze del pubblico e di conseguenza abbiamo studiato quali fossero le soluzioni migliori per poter soddisfare ancora di più le esigenze di un pubblico che anche lui è cambiato in questi due anni. Diciamo che poi è quello che ci eravamo detti anche ai tempi, ma che insomma ci siamo ripetuti in tante occasioni, il cambiamento, seppur in momenti magari dolorosi, perché no, ci ha colto impreparati tutti quanti il momento del Covid, però se il cambiamento viene poi studiato, analizzato in modo positivo, può dare degli spunti ulteriori, perché tutto si evolve e anche lì l'abbiamo detto altre tante volte, è stato un acceleratore diciamo al periodo del Covid. Fatto sta che appunto durante la convention io mi sono appuntata a due o tre cose che secondo me è importante definire, sono stati intanto resi noti i risultati di Affiesca degli ultimi nove anni, quindi è stato fatto un po' il punto. C'è stato, mi corregga se sbaglio, un normale, definiamolo così, rallentamento nel 2020, proprio in concomitanza con l'emergenza sanitaria, mentre invece i dati del 2021-2022 mostrano una crescita costante, che addirittura pare superiore al periodo prepandemico, quindi non solo si è recuperato il periodo carente, diciamo così, ma è stato superato il periodo precedente, è corretto? È corretto, è corretto. Abbiamo sofferto il 2020 in una maniera molto forte, per certi aspetti, considerando i mercati su cui siamo esposti, l'abbiamo sofferto chiaramente più di altre compagnie che magari sono più generaliste di noi, quindi hanno una differenziazione di mercati superiore alla nostra. Noi siamo concentrati nel mercato vita, in particolare nel mercato della credit protection, in diverse forme, ma sostanzialmente credit protection, e in quell'anno per diversi fattori abbiamo subito una flessione importante. Abbiamo lavorato per creare una nuova offerta, delle novità di prodotto, una diversa modalità di approccio al mercato, e questo è stato pagante. Questa nuova modalità di approccio è arrivata sul mercato più o meno tra maggio e giugno del 2021, nell'ultimo quarter 2021 queste novità hanno marcato una ripresa, una crescita e un recupero notevole rispetto agli anni precedenti. Di fatto il 2021 è stato l'anno migliore di tutti gli anni fino ad allora fatti come raccolta premi e risultati da parte di Affiesca in Italia. Il 2022 raddoppia quello che abbiamo fatto è stato fatto nel 2021, per cui una crescita estremamente forte in mercati difficili. E peraltro in un contesto economico-finanziario, lo abbiamo accennato poco fa, che non è che aiuti molto. Sì, il contesto economico-finanziario devo dire che non aiuta molto a livello di economia globale, distribuzione globale. Quando la tua attività è legata in realtà al mondo del credito, in realtà noi sappiamo che in una certa misura il mondo del credito è in conto tendenza rispetto alle difficoltà macro del mercato. Perché ovviamente si fa più ricorso al credito nei momenti in cui le difficoltà aumentano e c'è bisogno di una maggiore tutela. Di conseguenza cresce la sensibilità anche nei confronti di questo elemento e quindi il business in questo momento sta crescendo. Devo dire che cresce non soltanto perché c'è questo fenomeno di controtendenza, ma perché gli elementi che abbiamo introdotto nel 2021 sono stati apprezzati dal mercato e che continuano ad apprezzarli sempre di più rispetto a determinati competitor. Vediamo se va avanti così, se no ci adegueremo in qualche modo, risponderemo. Io sì, vuol dire che siete stati bravi. Siamo stati bravi, siamo stati bravi, non dovrei dirlo io, ma siamo stati bravi. Le ho dato io l'assist, insomma. Allora, peraltro, cos'è accaduto? Proprio nel momento in cui abbiamo dovuto, come dire, cambiare il nostro modo di lavorare e lavorare da remoto, c'è stata anche un'accelerata rispetto a quella che potremmo definire un po' la rivoluzione digitale, no? Tutti noi abbiamo dovuto imparare più velocemente alcuni meccanismi che magari conoscevamo già, ma che abbiamo dovuto approfondire. E questa rivoluzione digitale sta investendo tutti i comparti, compreso quello assicurativo. Però, l'ha detto lei prima, bello essere tornati in presenza perché serviva il ritorno alla stretta di mano, al contatto umano. E allora, domanda che sembra banale, ma non lo è, proprio in un momento in cui le due cose devono andare di pari passo. Prima c'era solo una cosa, poi ce n'era solo un'altra, adesso abbiamo la commistione dei due aspetti. Però come si abbracciano appunto la rivoluzione digitale, l'innovazione con il rapporto umano? Allora, nella visione di Afiesca si abbracciano in maniera... E scusi, vedi il titolo, e come abbracciarli entrambi? Cioè come due aspetti si abbracciano tra di loro? Ho voluto fare anche un gioco di parole. E come chi lavora deve riuscire ad abbracciarli entrambi? Sì. E la visione di Afiesca questa? Cioè abbiamo assistito negli ultimi 3-4 anni, da quando si è cominciato a parlare di InsureTech, quindi assicurazione tecnologica, che vuol dire in poche parole assicurazione sul web, a un'offerta che sostanzialmente da parte delle compagnie significava, caro cliente vai sul web, ti fai la polizza e finisce lì. Quindi una totale disintermediazione dove il rapporto tra virgolette umano cessava completamente, al di là di qualche consiglio online e assistenza online. Esisteva da una parte la piattaforma, la compagnia, e dall'altra parte il cliente. Afiesca è sempre stato un outsider del mercato e diciamo si è sempre presentata come una società che ha fatto dell'innovazione il suo cavallo di battaglia, ma che ha sempre avuto come canale distributivo degli intermediari non suoi, quindi dei liberi intermediari, broker e agenti plurimandatari. Ora la nostra idea di disintermediazione tra virgolette significa coinvolgere sempre comunque i nostri intermediari e qui arriviamo al discorso di associarli entrambi, quindi molta tecnologia, il cliente può accedere alle piattaforme, può fare la polizza online, ma viene sempre comunque appoggiato un intermediario per determinati aspetti della sua chiusura, che può avvenire totalmente online, ma l'intermediario c'è sempre. Questo significa che all'intermediario viene riconosciuto comunque un ruolo centrale nella negoziazione e nella gestione del rapporto con il cliente finale, nel momento in cui la fa, la polizza, ma poi anche nel dopo per l'assistenza successiva. Questo è fondamentale. Come abbracciarli entrambi? Gli stessi strumenti che esistono online, che noi abbiamo creato per l'online, sono disponibili su piattaforma mobile per l'intermediario, per cui l'intermediario utilizza le nostre piattaforme quando si trova dal cliente, in presenza del cliente, quindi con la stretta di mano, ma semplicemente a quel punto come strumento di forte accelerazione del processo di sottoscrizione. Possiamo dire con un sorriso, ma anche proprio con convinzione che questo periodo ci ha dato la prova che le macchine non potranno mai sostituire l'uomo. Sa che c'era questa paura, no? Ma non tanto paura sviluppata nel periodo del Covid, ma anche prima, nel momento in cui ovviamente le macchine hanno cominciato a entrare, a far parte della nostra vita, e allora la domanda è mi sostituiranno? Cioè, insomma, non so, poi magari l'anno prossimo qui al posto mio ci sarà una macchina che le parlerà, ma io credo che lei non vorrebbe questo. Come io non vorrei che ci fosse una macchina a rispondere alle domande rispetto a Fiesca, cioè preferisco avere il direttore in carne e ossa, però ecco, questa era un po' la paura, no? Sì, allora, io temo sempre Skynet, nel senso che temo che in certi settori a Skynet ci arriveremo. Ok. Detto questo, ci sono dei settori dove la relazione umana resta fondamentale, perché comunque si parla di argomenti che toccano nel profondo l'argomento della fiducia reciproca cliente, intermediario o comunque offerta, prodotto. Allora, dove si deve andare su un discorso di fiducia che si basa anche su un rapporto a pelle, cioè come ci si relaziona? Io credo che una macchina per quanto avanzata possa essere. Ah no, sono d'accordissimo. Può aiutare, ma ci deve essere l'uomo. Allora, io che sono, come tutti, per l'innovazione, ma sono ancora anche per certi versi per la carta e la penna, cioè figuriamoci, quindi sono proprio naif da quel punto di vista e per tante cose sono contenta di esserlo. Dopo torniamo in chiusura, siamo quasi in chiusura sulla parola innovazione. Prima però una questione che mi ha colpita molto. Durante la convention c'è stato anche un preciso momento di formazione che è stato curato dall'esperto di comunicazione Gian Paolo Rossi e leggo una frase che ha utilizzato proprio Gian Paolo Rossi, una metafora che a mio parere è particolarmente efficace. Il mondo attuale è diventato una sorta di monopoli dove peschiamo sempre la carta imprevisti. E quindi, partendo da questa frase, l'incertezza del momento, perché di fatto è vero, è così, può spingere le persone verso una maggiore cultura assicurativa che, mi smentisca se sto dicendo qualcosa di non corretto, è ancora particolarmente bassa in Italia? Allora, tre punti nella stessa domanda. La ruberò questa frase, lo dica Gian Paolo Rossi. Io lo dico, sarà felicissimo. Sì, la cultura assicurativa è molto bassa in Italia. È una cultura che si basa su una educazione all'obbligatorietà di determinate coperture, lasciando completamente scoperta all'educazione su altre coperture che sarebbero altrettanto fondamentali. Quindi sì, c'è una bassa cultura, c'è una bassa penetrazione del prodotto assicurativo e, d'altro canto, esistono gli imprevisti. La citazione di Gian Paolo, che era rivolta a un momento formativo degli intermediari, volto a trasferirgli dei concetti su come aumentare la loro autorevolezza, l'autorevolezza percepita da parte del cliente finale. Torniamo al discorso della relazione. personale, quindi non a distanza. Diciamo che il discorso degli imprevisti si inserisce perfettamente in questa logica di recupero della formazione che va fatta sul mercato verso sia i distributori, quindi gli intermediari, che sono l'attore principale di questa erogazione di formazione di cultura assicurativa, sia verso il pubblico finale perché si faccia attore in prima persona nel richiedere informazioni ulteriori. Vedo che è un percorso non facile, che impiegherà tanto tempo per essere compiuto, però sta andando in questa direzione. Noi stiamo andando in questa direzione. Allora, l'abbiamo già ovviamente accennato prima e l'ha già spiegato anche prima, però in chiusura riprendiamo la parola innovazione. A Fiesca che significato dà esattamente a questa parola? Un significato importantissimo perché l'innovazione è sicuramente affrontabile su due punti di vista. L'innovazione di prodotto, quindi creare sempre delle soluzioni che siano sempre più vicine all'utente finale, all'assicurato, al cliente, ma anche un'innovazione che debba essere innovazione tecnologica, quindi di strumento, perché è indubitabile che un prodotto per quanto azzeccato, per quanto calato perfettamente sui bisogni, se poi non riesce ad arrivare all'utente finale, è un prodotto che resta sprecato. Di conseguenza fare grande innovazione sul contenuto, ma anche sul mezzo con cui questo contenuto deve essere portato. Insomma, io non le chiedo di anticipare nient'altro perché è bene poi che ci... mi auguro di rivederla presto per, esatto, per altri step e così almeno siamo anche, come dire, tra virgolette obbligati a vederci, visto che finalmente come abbiamo iniziato questa puntata tutto è ripreso almeno nella normalità, sperando che anche da un punto di vista finanziario la situazione possa essere più rosea per imprese, famiglie, insomma per il nostro paese. Io ringrazio per Francesco Basilico, direttore generale a Fiesca Italia, grazie, grazie anche per averci raccontato tutti i vostri risultati, non solo in questo nostro approfondimento in tv, ma anche attraverso la vostra convention e a presto, insomma. A presto, grazie. Vi aspettiamo prestissimo. Noi andiamo in pubblicità e tra poco una nuova puntata della nostra settimana dedicata all'asset management con un nuovo ospite, vi aspettiamo. Noi andiamo in pubblicità e tra poco una nuova puntata della nostra settimana.